buongiorno a tutti allora siamo qui oggi a commentare una notizia che è fresca di ieri sera di ieri pomeriggio stiamo nel tardo pomeriggio in cui ufficialmente l'uefa per violazione del per play finanziario legato alle plusvalenze ha deciso di escludere la juventus dalla partecipazione alla coppa europea nello specifico la juventus avrebbe dovuto disputare la uefa conference league detta pure coppa dei monnezzari e chi l'ha vinta lo sa perché la definisco così nonostante sul campo la juventus avesse acquisito la possibilità di giocare la champions league ma al di là di quello la juventus ha avuto questa ulteriore penalizzazione questa ulteriore sanzione per cui il prossimo anno la juventus parteciperà solo al campionato italiano nel ribadire nel ricordare che come avevo già affermato il giorno in cui il collegio di garanzia del coni riattribui alla juventus 15 i famosi 15 punti che erano stati tolti ed io ero là fuori l'unico con la maglia della juventus ad attendere quella sentenza per cui chi di voi avesse visto quel video sa che io ero lì perché io sono sempre lì oggi nell'apprendere questa notizia ma soprattutto nel leggere il comunicato della juventus e le parole di quella banda di pagliacci che attualmente formano la classe dirigenziale della juventus e quindi parlo di ferrero di scanavino di calvo comandati chiaramente come marionette burattini da john elkan quelle parole quel comunicato e le parole lasciate al presidente non fanno altro secondo me che uccidere definitivamente qualsiasi sentimento di passione di amore che un tifoso come me di quasi 60 anni potrebbe nutrire nei confronti della juventus sicuro che la juventus sarà seguita da sempre dappertutto questo perché questo perché quando si subiscono passivamente dei ricatti delle vessazioni semplicemente perché queste queste persone sono lo strumento di vendette personale da parte dei nemici che ti odiano e parliamo in italia in italia la juventus è sempre stato oggetto di divisione o la si ama o la si odia e chi la odia la odia profondamente semplicemente non perché come dicono loro ruba o vince regolarmente perché questo non è mai avvenuto ma semplicemente perché vince troppo e lascia poco spazio agli altri che essendo inferiori avendo meno possibilità avendo sempre avuto meno possibilità economiche non vincono da qui si scatena l'odio di squadre che obiettivamente con la juventus hanno poco a che fare sia come storia che proprio come come censo come casa e parlo dell'inter parlo della roma parlo della fiorentina parlo di tantissime altre squadre nel panorama italiano l'unica squadra che ho sempre ritenuto essere all'altezza della juventus e al livello europeo sicuramente superiore è il milan ma le altre squadre in realtà hanno sempre cercato politicamente ribadisco politicamente di colpire la juve e hanno trovato terreno fertile lo trovarono in calciopoli lo hanno trovato adesso dove anche a calciopoli ricordiamo che la juventus è stata l'unica penalizzata ma di reati non erano commessi accertati dai tribunali veri che sono i tribunali ordinari non i tribunali della santa inquisizione di torchiamata creati ad hoc e politicamente ripeto manovrati da squadre che non avendo una grande forza economica ma un grande potere politico e parlo dell'inter della roma ve lo ripeterò sempre dell'ibitum comunque cercano di colpire la juventus la juventus ha subito passivamente questi ricatti quindi alla fine in italia ha subito in classifica una penalizzazione di 10 punti nonostante sul campo avesse acquisito un posto che l'avrebbe consentito di giocare la champions e in uefa ha subito la vendetta di ceferin che ha sempre osteggiato il progetto superlega che guarda caso era stato promosso dall'unico e vero grande presidente della juventus ovvero andrea agnelli che chiaramente aveva con real madrid e barcellona ha deciso di praticamente cercare un nuovo format per queste manifestazioni europeo proprio in virtù del fatto di cercare più possibilità economiche e reperire più fondi che consentissero ai club che partecipano di accedervi direttamente e non avere un broker un intermediario come l'uefa che alla fine non essendo una società non rischiando nulla tuttavia se tiene gran parte di questi soldi semplicemente perché è l'unico in una posizione di monopolio e ribadisco che organizza le manifestazioni sportive diciamo che queste vendette personali sono state realizzate per cui la juventus in italia alla fine ha subito una penalizzazione di 10 punti in europa adesso addirittura fuori per un anno dalle coppie con ripeto questa sanzione di potenziali 20 milioni di euro eventualmente da versare ma la cosa triste veramente triste che uccide l'amore e la passione di chiama la juventus è il comunicato emesso dalla juventus e dall'attuale classe dirigente è chiaro che il signor john elcam che è l'attuale proprietario della juventus in virtù del fatto che comunque è al comando della exor che partecipa per la juventus per il 63 64 per cento è uno che la juventus non l'ha mai amata è uno che obiettivamente la sente come un fastidio pure da un punto di vista economico è uno che ha deciso di non investire dalla juventus e quindi tratta la juventus come una fastidiosa azienda per la quale bisogna comunque cercare di minimizzare i costi non tenendo conto e non considerando che la juventus invece è un simbolo è un patrimonio di tanti milioni di tifosi in italia e nel mondo siamo quasi 150 milioni cioè la juventus è tra i primi tre club tifati al mondo e quindi che cosa fanno questi signori che cosa dicono questi signori le parole dell'attuale presidente ferrero di cui obiettivamente mi vergogno che faccia il presidente della juventus dice che comunque noi accetteremo il verdetto nonostante dicono loro nel comunicato noi abbiamo agito regolarmente allora se tu pensi di avere agito regolarmente se tu parti e questa sia una vessazione se tu pensi che queste accuse siano false ed infami perché poi sono false ed infami perché le plusvalenze lo ribadisco non sono reato ma sono una voce di bilancio e non esistono le plusvalenze fittizie e le plusvalenze non fittizie in quanto le plusvalenze si determinano in base a dei parametri di valutazioni soggettive attribuiti dai soggetti che decidono di comune accordo di realizzare una plusvalenza quindi altro discorso le plusvalenze in se fanno da solo per cui la juventus sulla base delle plusvalenze viene penalizzata e punita altre squadre in italia le fanno tutte non ultima la roma che nell'ultimo mese ci ha sistemato il bilancio con facendo realizzando 30 milioni di plusvalenze col sassuolo quelle sono regolari quindi le plusvalenze sono reato esclusivamente se le realizza la juventus ma la cosa triste è che questa gente ha deciso per una linea una linea difensiva che veramente folle assurda di non difendersi di non ricorrere ma qui non è che bisognava difendersi e ricorrere perché noi volevamo o comunque dovevamo avere accesso alla manifestazione europea per giocare la UEFA Conference League perché io sono il primo ad essere felice di non giocare la coppa dei monnezzari di cui i tifosi di altre squadre vanno fieri e si vantano qui c'era in ballo il buon nome e la reputazione della Juve perché la juventus se ha sempre agito correttamente e io di questo ne sono assolutamente certo perché reati non ne ha mai commissi né nel 2006 né oggi avrebbe dovuto difendere in tutti i gradi e presso tutte le sedi la sua reputazione il suo onore facendo in questa maniera grazie a quel genio di John Elkan e a quei quattro burattini che oggi stanno lì a dirigere la juventus e parlo di ferrero di scanavino di calvo perché io i nomi li faccio di questa gente abbiamo purtroppo avallato una leggenda metropolitana che alcuni cavalcheranno nel secolo e negli anni che la juventus è una squadra che vince in virtù del fatto che non perché c'è i giocatori migliori non perché è la più forte ma perché ruba inganna e truffa è chiaro che poi tutta sta roba che dicono i nemici lascerà sempre il tempo che trova perché loro sono smentiti dai fatti se ancora oggi nel calcio mondiale la juventus è una squadra che ha vinto credo sesto settimo club mondiale come numero di trofei ma addirittura che ha fornito alle nazionali giocatori il maggior numero di giocatori campioni del mondo la juventus non può essere una squadra dei ladri una squadra che truffa una squadra che corrompe però tu facendo in questa maniera dai modo a chi ti odia e ti ha sempre odiato di aver dato veramente una base su cui nel tempo potranno dire che tu hai vinto rubando perché comunque quando ti dovevi difendere non ti sei difeso perché avevi la coscienza sporca e questa è una cosa gravissima io capisco che al signor john el candela juventus non importi niente quello che non capisco però è che lui doveva difendere la juventus semplicemente perché la juventus è un prezioso patrimonio ripeto umano culturale sportivo della sua famiglia di suo nonno gianne agnelli e di tutti i tifosi della juventus per cui ci costringe a noi tifosi a portare addosso una macchia indelebile un'onta di essere tifosi di una squadra di banda di una banda di ladri sostanzialmente di una squadra che vince rubando semplicemente perché lui in nome del politica di corrette del cavolo non ha voluto difendere la juventus quando si è sotto ricatto quando si è vessati d'accuse false infamati ci si difende non si fa questa roba quindi io dico al signor gionelca al signor ferrero al signor scanavino al signor calvo di vergognarsi si dovrebbero vergognare per quello che hanno fatto e si debbono vergognare anche quei tifosi pavidi e bigliacchi che avallano questa politica dicendo no vabbè ma noi tifiamo per la juve ma che tifi per la juve oggi tu non sei più tifoso della juve tu sei tifoso di una banda di ladri e quindi tu non puoi accettare passivamente questa roba tu dovresti chiedere da tifoso con tutte le tue possibilità che la juventus venga difesa da chi ha i titoli per difenderla non da noi tifosi quindi caro tifoso che avalli questa linea dirigenziale questa linea ti devi vergognare anche tu perché tanto tifoso della juve non sei e perché la juventus storicamente è sempre stata una squadra che ha avuto giocatori top ed è stata una squadra top e non la linea giovani che stanno imponendo adesso di gente mediocre mediocre che voi passivamente accettate pensando che la juve dei giovani la juve dei giovani può pure essere bene la juventus la chiama juventus proprio il chilatino significa gioventù ha dei giovani forti no queste quattro pippe che ci abbiamo oggi di cui faccio i nomi perché io i nomi li faccio perché quando tu pensi che mentre gli altri club comprano top player per rimanere al vertice e tu fai credere a determinate persone che Corovella e Cambiasso tanti per dirne due tu poi rimanere ai vertici significa che ci stai prendendo in giro ci state prendendo in giro e quei tifosi che lo pensano credono che abbiano proprio pure dei nemici mentali detto questo vi mando un grande saluto visto che questo video andrà su un nuovo canale un nuovo canale che è il secondo canale che ho creato vi chiedo possibilmente di iscrivervi vi chiedo di attivare la campanella e vi chiedo di seguirmi perché cercherò in questo periodo di seguire tutto il percorso che questi fenomeni della nuovo corso della juventus faranno nonostante il nostro amore per la juventus rimarrà sempre mutato ma io a questa gente non la sostengo più e li seguirò sarò coloro che controlla il loro operato nella speranza che gionelca ferrero scanavino e calvo si tolgano dalle scatole perché noi questa gente non la vogliamo ok fino alla fine forse juventus